Festival dell'Acqua qui a Palazzo Ducale, tra i protagonisti sicuramente Anima che ha creduto sin dall'inizio a questo festival. Assolutamente, Anima è felice di essere sponsor e di patrocinare questo evento per il forte legame che ha l'industria della meccanica in Italia e tanti prodotti correlati al mondo dell'acqua, così vicino alle utilities che svolgono un servizio fondamentale su questo bene primario ho tante volte dimenticato o se non dimenticato tenuto un po' nelle retrovie dalla politica italiana piuttosto che dalla popolazione. Tutti abbiamo bisogno dell'acqua, ci si sveglia la mattina, una delle cose più banali che facciamo, apriamo un rubinetto per cominciare la giornata e non ci si rende conto di tutto il lavoro che c'è di dietro per portare un bene primario così importante a tutti i cittadini piuttosto che all'impresa sia in forma di acqua potabile che per la depurazione delle acque reflui dopo l'utilizzo dell'acqua. Ecco, dietro a tutto questo mondo c'è un comparto, quello che è rappresentato da Anima e dall'associazione che io direttamente rappresento, Asso Pompe, c'è un comparto che lavora tanto e che dà un contributo molto importante, crediamo, a questo settore. In questa occasione vorremmo rinsaldare il legame con i nostri partner principali che sono per l'appunto le utilities, qui rappresentate dalla loro federazione ma anche presenti direttamente, abbiamo praticamente tutti gli operatori italiani e i principali operatori internazionali, vorremmo con loro, si diceva, rinsaldare il rapporto per poter sviluppare assieme un lavoro più vicino a quelle che sono le problematiche del contesto italiano, problematiche fortemente influenzate di questi tempi e dalla scarsità di finanziamenti e quindi le risorse sono limitate. Noi crediamo che rafforzando la collaborazione si possano trovare soluzioni e per la gestione della problematica finanziaria piuttosto che tecnica, migliorare la gestione degli appalti e delle gare per avere quindi un sistema che pur con scarsità di risorse riesca a dare al Paese e alla cittadinanza dei risultati migliori. Ne abbiamo tanto bisogno e siamo qui per dare il nostro contributo.